ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi un nuovo video un video tag che si chiama tag domande hot e l'ho visto sul canale di terra ingegno ciao tesoro un bacio sono 20 domande e cominciamo subito prima domanda quale parte ti piace di più del corpo umano il viso mi piace molto il viso seconda domanda e detto corpo al mio corpo non mi piace niente mi piace soltanto il mio viso i capelli e basta a parte le unghie anche terza domanda quale parte del corpo ti piace di più toccare mi piace molto toccare e la schiena tipo anche ragazzo mio credo sempre la schiena perché una parte del corpo che mi piace veramente tanto ovviamente su un uomo è comunque io parlo e quindi mi piace molto molto la schiena poi la schiena io non so mi piacerebbe un po dipende poi uno come fatto anche io vabbè adesso parlo del ragazzo mio mi piace la schiena sua quindi comunque quale parte del corpo ti piace di più toccare la schiena quarta domanda quale parte del corpo piace di più farti toccare allora è difficile perché a me non mi piace tanto fammi toccare eccetera eccetera perché comunque fatto che su ciccia da fastidio che mi sente nella ciccia insomma quindi non mi piace più di tanto quinta domanda ti è mai capitato che ti cadesse l'occhio su un punto un po intimo di un estraneo mentre parlavi con lui sì mi è capitato ma una volta non è che mi capita che per esempio che ne so sto seduta questo sto in piedi c'è parlo un attimo lo guardi tutto no perché la prima volta che il vedi quindi te capita di guardare sì mi è capitato comunque sesta domanda hai mai toccato qualcuno quel punto per sbaglio sì roberto ragazzo mio dai non mi ricordo come sicuramente giocando può essere così sai con le mani che ti dà le botte che mi è capitato di toccarlo in quel punto lì insomma per sbaglio settima domanda hai mai dato soprannomi a parti del tuo corpo quali no sinceramente no no non mai dato soprannomi tipo al seno al sedere boh no no ottava domanda che parte del tuo corpo cambieresti tutto tranne il viso no una domanda che parte del tuo corpo viene più apprezzata non lo so sinceramente lo so vabbè roberto tutto mi piace tutto vabbè sinceramente non lo so c'è no non lo so sicuro niente a parte roberto niente decima domanda qual è il più bel complimento che hai ricevuto ovviamente più bel complimento che ho ricevuto è tipo sei bellissima se ne va ragazza insomma sta roba così insomma i complimenti soliti che ti fanno gli uomini no undicesima domanda qual è il più brutto insulto che hai ricevuto ne ho ricevuto tanti quando ero più piccola quando ero molto molto più grossa molto molto più cicciona e ho ricevuto un sacco di e ho ricevuto un sacco di insulti brutti se cicciona se imbuzzigone insomma tutte sta roba così dato che comunque voi sapete che tempo tempo fa avevo fatto un video dove parlavo del bullismo sta roba qua quello che mi è capitato a me ma è nei primi video cioè all'inizio proprio quasi e che ci sono sofferto tanto quindi i più brutti insulti sono stati quelli dodicesima domanda qual è il complimento che hai fatto e che è stato il più apprezzato l'ho fatto a roberto il mio ragazzo che io di solito chiamo sei il mio angelo no e lui la prima volta che l'ha sentito c'è il masto come per di no come sono angelo no alla fine pure io ho i miei peccati diciamo non siamo tutti santi no però per me lui è il mio angelo cioè nel senso che comunque non perché ragazzo mio ma comunque perché si preoccupa per me per determinate cose se succede poi comunque pensa sempre prima a me poi lui anche a mio figlio comunque adesso parlo anche di William e pensa sempre prima a noi poi dopo viene lui e poi anche per come si comporta sia come con mio figlio con i miei genitori cioè educato tutto il resto quindi per me lui il mio angelo quindi lo chiamo il mio angelo il mio angelo quindi questo è stato il più bel complemento che ho fatto ad una persona insomma e a lui è stato apprezzato ovviamente l'ho apprezzato ovvio mancherebbe pure vabbè vabbè tredicesima domanda ti sei mai eccitato è questa sì ti sei mai eccitato in un momento poco adatto no cioè nel senso non è che non è eccito così cioè io poi è difficile cioè quando sai che sei con un ragazzo tuo ti strofini ti tocchi fa è normale cioè comunque ti viene eccitazione però se io vedo un film un po' usè così per di che capita oppure qualche un film che capita qualche scena un po' usè ecco così non è che mi è eccito cioè non fai niente per dirvi ma quindi no non mi è mai capitato quattordicesima domanda se è mai stato scoperto in una situazione intima da qualcuno dei tuoi genitori o estrani un tempo fa diciamo che praticamente credo stavo con l'ex mio sì stavo in cameretta mia c'ho la porta chiusa te baci stai lì però non è che fai niente di che perché comunque sai che dentro casa c'è le persone no quindi c'erano anche i miei genitori e poi c'ho il vizio che mi madre e mi padre non bussavano mai soprattutto mi padre e ti apriva nella porta all'improvviso che uscì capito un nervoso e quindi pensavo che ne so abbracciata a lui appena io subito così e niente 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 però non è che facevamo robe chissà cosa voglio dire però loro avevano il vizio di non bussa mai quella cavolo di porta oppure se bussavano praticamente rispettavano la mia risposta e dico avanti no no loro bussavano si entravano proprio bussare per niente e comunque lì sì dei strani no però dei miei genitori sì però non è che stavamo fare robe zozze e robe varie c'è io di quindi e quindicesima domanda come reagito e niente reagito che io subito mi sono accusata così perché loro pensano anche per un abbraccio pensare sa che già cosa stai a fa vabbè e quindi niente stavo così niente così non reagito che zio stavo abbracciata niente che c'è papà o mamma dimmi così normale sedicesima domanda hai mai ricevuto proposte da una persona molto più giovane di te sì mi è capitato più di una volta sinceramente tipo anche su facebook o anche su instagram ma i ragazzetti anche dei 16 anni c'è lui dicono 29 no e c'è posso essere la mamma beati loro cani con l'età però vabbè se hai capito ti vedono in telefoto ti vedono truccata un po' così boh non lo so comunque a me me danno molto molto di vino c'è certe persone mi danno anche 18 anni che io dico dove però vabbè sono contenta perché comunque un bel complimento perché voglio di come si può dire c'è che se uno ti riconosce così no c'è che non te conosce però vedendo te così ti da molto di meno di quelle che hai una roba bella un po' comunque è bello sembrare sempre più giovani diciamo era il brutto se me ne davano di più però no c'è tanti uno pure me ne ha dato 18 altri me ne davano 22 20 così e quindi sti ragazzetti beh se c'è un po' l'età lì capito l'ho andato di mando un messaggio però però molto più giovani di me ve l'ho detto anche 16 anni 17 sì dopo c'è quelli anche dei 20 dei 23 che rompono le scatole che mi è capitato più di una volta e io sono molto c'è la gente infatti mi dice guarda sembra manco che hai 29 anni cioè voglio dire che poi 29 anni sono giovane che sono 40 o 60 voglio dire però anche se io non mi sento giovane lo so che sono giovane dentro di me lo so però io mi dico sempre che sono vecchia però comunque ritornando al discorso sì mi è capitato proposto dei più giovani di me sì dopo dicendo guarda che sono molto più grande di te io ho detto l'età è tutto ma questi proprio mi fregai niente c'è un vecchio eh sì così vai in galera poi questa era la sedicesima domanda la diciassettesima domanda ah poi dice della domanda precedente scusate che qui un po' in intreccio che qui dice mi hai ricevuto proposto da una persona molto più giovane di te la diciassettesima domanda ti dice ti ha fatto piacere certo oppure dice hai la diciassettesima domanda dice ti ha fatto piacere e la diciottesima ti farebbe piacere allora che ti farebbe piacere vuol dire se te dovesse capita a me mi è capitato quindi sì è normale che te fa piacere che una persona o un ragazzetto o anche uno dell'età mia o anche di meno o di più quello che è comunque ti fa sempre piacere no comunque riceverò il complimentino che gli piace eccetera eccetera normale fa piacere credo a tutti chi è che non farebbe piacere poi la diciottesima domanda ripeto ti farebbe piacere va bene diciannovesima domanda hai mai ricevuto proposte da una persona molto più vecchia di te sì tipo di quarantina d'anni o qualcosa di più sì anche però non c'è no a parte dopo lasciate perdere che sono fidanzata roberto eccetera eccetera però anche se ero singolo comunque erano uguale anche perché ciao io dico non mi piace poi io so del pensiero non saranno tutti gli uomini è prom scusatemi bruttino però la maggior parte degli uomini più vanno avanti con l'età e più diventano schifosi secondo me non tutti alcuni si è perché c'è quelli vedete 40 anni che va presso quella le ventenni c'è quelli dei 60 anni che vanno presso le trentenni c'è anche le 25 così anche quelle tali 25 di 34 quello che è a me mi fa schifo c'è proprio c'è il mio nonno e donne non siamo così schifose voglio dire comunque sì l'ho ricevuta anche questo poi ventesima domanda ti ha fatto piacere ti farebbe piacere ovviamente fa sempre piacere lo stesso come ripeto come le domande precedenti di prima su uno giovane normale quindi anche uno po più vecchio di me o più molto più vecchio di me è normale che mi farebbe piacere mi fa piacere lo stesso normale che fa sempre un complimento sta roba così sai che gli piace comunque ti fa piacere però basta che non va una roba un po più non grave tra virgolette ma che insiste né che te stanno lì a rompere palle eccetera eccetera che alla fine dopo stufi anche quindi dopo li a me non mi piace e comunque però se per stessi uno sta fermo sta buono l'istante il suo finché dicevo sembra ragazza eccetera eccetera ok c'è nessuno dice niente insomma e niente io spero che questo video tag vi sia piaciuto se è stato così mettete un pollice in su raccomando fatelo che sono curiosa voglio sapere le vostre risposte su questo tag e sotto all'info box come sempre vi metterò le risposte quindi vi ho detto direttamente lì e niente io tag a tutti e niente se sotto al video volete commentare volete dire che ne so delle mie risposte come lo date c'è nel senso se la pensate come me su alcune cose oppure no mi dite la vostra che sono curiosa e niente io vi saluto vi mando un enorme bacio e ci vediamo presto al prossimo video ciao